La mia treta sei, Teresa. Grazie. Oh! Quanto si vuole a montare sta crocchio? Dovremmo esserci quasi. Ma poi dopo lo devi collegare al compressore. Quel tubo lì, eh? Eh, quel tubo lì, sì. Lascia, va? Questo è il... Il trivellone? Il trivellone, guarda. Ma gli hai fatti i calcoli per la pressione dell'acqua? Sì. Ma va? Hai fatti i calcoli per la portata del genere? Eh, l'ho fatti, sì. Dai. Sì, ma... Sarà mica la maniera di lavorare? Sarà mica la maniera di lavorare? Si lavora così, dai. Ogni lavoro, anche il più banale, necessita di un minimo di regia, diciamo, di... Per esempio, spero non abbia usato materiale usato, assolutamente. Svita questo trivellone lì, che hai fatto una stronzata, l'hai montato la rovella. Ma no, ma prendi il chiavone e avvita il trivellone. Lascia stare il chiavone, svita il trivellone che... Non vedi che il trivellone va abbinato con questa qua, che vuole un bacato con questa. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, che terra e polvere, che tira vento, e poi magari piove. Un mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura. 12 anni e il cuore pieno di paura. Per esempio. Un mino non aver paura, di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari. E si giudica un'altra parte. Un giocatore, lo dirà il coraggio. All'altruismo, dalla fantasia. Sa quanti mi hai visto, quanti ne vedrai. I giocatori tristi, che non hanno vinto mai. Ed hanno peso le scarpe, da qualche tipo di muro. E adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da dieci anni, con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti. Chissà quanti ne vedrai. Un mino capi fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento. E allora mise il cuore dentro alle scarpe, le corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Mi entro nell'area, mi entro senza guardare. E mi sa chiedere lo che c'è passare. Ancino non aver paura di tirare il calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore, lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Un giocatore, lo vedi dal coraggio, 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 dalla fantasia. Grazie a tutti.